Una vecchia osteria nella quale gustare del buon vino ed assaggiare prelibatezze di ogni tipo. Un'osteria però a cielo aperto nei vicoli del centro storico di Santo Padre. Il comune della Valle dell'Iri il prossimo 26 luglio infatti ospiterà la prima edizione della manifestazione gastronomica Piacere di Vino, possibile anche grazie al contributo della Regione Lazio. Abbiamo quindi 17 punti di degustazione no gastronomica che dal pomeriggio, dalle 6 saranno aperti fino a notte inoltrata, insieme a tanta bella musica, perché tra anche i quattro gruppi musicali alliterranno tutti coloro che vorranno venire a prendere un po' di fresco nei 700 metri di Santo Padre. È importante perché noi abbiamo puntato da sempre, da mio insediamento, su queste attività, su queste iniziative sportive e no gastronomiche per diffondere la cultura di Santo Padre e far conoscere Santo Padre. È una prima manifestazione, un'intuizione dell'amministrazione comunale per cercare di rilanciare il territorio, l'economia e sapendo ovviamente che bisogna puntare sulle eccellenze locali. L'iniziativa, presentata giovedì mattina in Comune a Santo Padre, è organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Aggregativo Giovanile Tutti Insieme per Santo Padre. Un'iniziativa che sarà soltanto il primo evento di una lunga estate. E' un'iniziativa che proseguirà con il 28 luglio con il primo percorso di kart cittadino. Il rally sia lo slalom, il decimo edizione dello slalom, campiato nazionale che si svolgerà l'11 domenica 11 agosto. E poi avremo il 2, 3, 4, il tira a piattello anche con la sessione notturna. E dal 6 agosto inizierà invece l'estate Santo Padre Classica con la piazza che qui vedete. Saranno andate tutte le sere fino al 22 con degustazioni e no gastronomiche e spettacoli musicali. Iniziative queste che la Regione Lazio cercherà di valorizzare anche per i prossimi anni. Ci sarà un'attenzione particolare da parte della Regione per cercare di sposare anche qualche progettualità interessante da inserire nel programma europeo 2014-2020.